Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostiamoci in a 12 dove a causa di lavori si registrano code tra Carrara e Versilia in direzione Livorno. In Fipi lì invece si segnalano due chilometri di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in entrambe le direzioni. Da segnalare è anche code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze per traffico intenso. A Firenze si ricorda che nella giornata di domani 20 maggio passerà dalla città il Giro d'Italia con le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico, tutti i dettagli e gli aggiornamenti sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!